Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.